Occupazione, formazione, pille in crescita. Sono parole chiave anche per il turismo, anzi soprattutto per il turismo, che in questi anni abbiamo fatto diventare un settore determinante per l'economia regionale. Queste le parole del governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, alla conferenza stampa di oggi per presentare la partecipazione alla VIT di Milano e le attività promozionali per il 2020. Noi abbiamo in questi anni puntato tantissimo sul turismo, con dei riscontri importanti nei risultati, nella crescita della risposta. È anche una regione che grazie alle grandi campagne di comunicazione è ormai entrata nell'immaginario nazionale. Siamo cresciuti molto nel mercato turistico italiano, l'obiettivo è quello di crescere anche in quello straniero, per poterlo fare servono gli investimenti necessari. Il salvataggio dell'aeroporto è stata una premessa, perché ovviamente l'aeroporto è uno degli ingressi principali del turismo che viene dagli altri paesi e adesso stiamo puntando sul suo potenziamento infrastrutturale della regione sul tema del bike, un cluster turistico che si abbina molto, la partecipazione a tutte le fiere, il continuare con una comunicazione importante nell'immagine della regione, le mostre che hanno unito arte e turismo a favore del territorio, la formazione come strumento di crescita del sistema in termini di competenze dall'accompagnatore turistico in bicicletta alle competenze di tipo informatico e così via. C'è un lavoro molto forte che ha permesso di avere per esempio l'attività delle risorse per riqualificarsi, intendo proprio dal punto di vista infrastrutturale, e in questa crescita io vedo, sento un clima molto positivo. Abbiamo incontrato già tre gruppi importanti di operatori di vario tipo, ai quali stiamo dando il grande risultato quello di Lolli Planet, questo riconoscimento che la regione Marche ha avuto per il 2020 come top destination, esce o c'è proprio un posto da visitare, una specie di premio che ci diamo fra di noi, e ho rispirato un clima molto positivo, insomma di chi sente che la regione investe sul turismo e vede questa dimensione economica in crescita, che significa poi occupazione, perché il turismo ha un'alta incidenza in termini di occupazione, e dall'altra parte è il prodotto interno lordo, quindi cresce del valore economico della nostra regione, perché il turismo poi interfaccia con tantissimi servizi che sono presenti nei territori. Con questa partecipazione alla BIT, ha affermato l'assessore regionale al turismo e alla cultura Moreno Pieroni, vogliamo continuare a tenere alta l'attenzione sulle Marche, nel solco dei risultati ottenuti e con proposte sempre nuove. Già da stasera infatti le Marche saranno in prima serata, alle ore 21.45 circa, nell'apertura del Festival di Sanremo, con lo spot promozionale con il campione di ciclismo Vincenzo Nibali.